Aderisce anche il progetto Mondo Mlal come membro di Foxiv, la federazione di organismi cristiani di cooperazione e volontariato internazionale, alla campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano, in collaborazione con Caritas Italiana. È partita a luglio per realizzare una raccolta fondi per il finanziamento di progetti che vadano a contrastare i gravi problemi sociali causati dalla pandemia nel mondo. Il Mlal partecipa con un progetto in Burkina Faso, dove l'associazione è già presente dal 2001. Uno dei paesi più poveri del mondo, tra gli ultimi cinque paesi poveri del mondo, nella regione di Cascade, dove il livello di malnutrizione tra la popolazione rurale è molto elevato e quindi interverremo con un progetto che cerca di ripristinare la possibilità per le famiglie più colpite di accesso a risorse alimentari, oltre a fare attività di promozione, di prevenzione sul tema della diffusione del Covid. C'è un sito che riassume obiettivi e dettagli della campagna www.insiemepergliultimi.it dove si può trovare tutto ciò che serve per capire il dramma che tanti paesi stanno attraversando e come si può partecipare a questa iniziativa che interpella ciascuno per sentirsi più uniti ed aiutare a chi nel mondo sta attraversando la difficoltà della sopravvivenza. Diciamo che se l'impatto del Covid da un punto di vista socio-economico, oltre a quello ovviamente drammatico, sanitario, qui in Europa, in particolare in Italia e sotto gli occhi di tutti che ha riportato nella povertà tantissime famiglie, ma con la possibilità dello Stato e dell'Unione Europea e di altre risorse da mettere in campo per superare questo periodo di grave difficoltà, proviamo a immaginare in paesi dove erano già poveri e che non hanno altra possibilità di superare se non quello della cooperazione e della solidarietà internazionale, per cui è un segnale, un impegno in cui vogliamo stare vicini a delle popolazioni assolutamente abbandonate a un destino tragico.